Dal libro Dottrine di Salvezza, volume 3, Il raduno di Israele, tema che riguarda la guerra attuale in Palestina. I profeti predissero il raduno di Israele. Mosè dichiarò per profezia all'antica Israele, ancora prima che essa avesse il privilegio di entrare nella terra della sua eredità, che per la ribellione dei suoi figli le tribù di Israele sarebbero state scacciate ai quattro canti della terra, ma che negli ultimi giorni, se esse si fossero umiliate, il Signore le avrebbe radunate di nuovo. Queste profezie furono ripetute continuamente dai profeti di Israele, cioè da Isaia, Geremia, Ezechiele, Amos e Osea. Infatti tutti i profeti hanno parlato di questa dispensazione e del raduno di Israele. Durante la dispersione. In quel giorno il Signore stenderà una seconda volta la mano per riscattare il residuo del suo popolo rimasto in Assiria e in Egitto, a Patros e in Etopa e ad Elam, a Shinar e a Amat e nelle isole del mare. Egli alzerà un vessillo verso le nazioni, raccoglierà gli esili di Israele e radunerà i dispersi di Giuda dai quattro canti della terra. La promessa secondo la quale la Chiesa sarebbe stata un vessillo per il mondo. Più di 125 anni fa, nella piccola città di Fayette, contea di Seneca, stato di New York, il Signore alzò un vessillo per le nazioni. Ciò veniva compiuto in adempimento della predizione fatta dal profeta Esaia e che ho appena letto. Quel vessillo era la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, che fu stabilita per l'ultima volta per non essere mai più distrutta o data ad altri popoli. Si trattava dell'avvenimento più grande cui abbia assistito il mondo dal giorno in cui il Redentore fu innalzato sulla croce per compiere l'espiazione infinita ed eterna. Nessun altro episodio avrebbe dovuto essere annunziato ai popoli con efficacia maggiore e quindi accolto con manifestazioni maggiori di gioia e di soddisfazione. I popoli avrebbero dovuto rallegrarsene ed accoglierlo con allegrezza di cuore perché con esso avveniva l'istituzione della verità divina sulla terra, cioè il Vangelo di Gesù Cristo che è la potenza di Dio per la salvezza di tutti i credenti. Per molte centinaia di anni il mondo era rimasto senza questo Vangelo, cioè da quando si era verificata la grande apostasia e l'allontanamento della verità stabilita con la Chiesa Primitiva. Dopo l'inalzamento del vessillo il Signore mandò fra i popoli della terra i Suoi anziani investiti del sacerdozio, del potere e dell'autorità per rendere testimonianza a tutte le genti della restaurazione della sua Chiesa, per invitare al pentimento i figli dei uomini e per esortarli ad accogliere il Vangelo, che veniva predicato in tutto il mondo come una testimonianza prima della fine, cioè la fine del regno della malvagità e l'inizio del regno millenario di pace. Gli anziani sono andati nel mondo come è stato loro comandato, essi stanno tuttora predicando il Vangelo e radunando dalle nazioni la stirpe di Israele cui fu fatta la promessa. Israele si raduna unendosi alla vera Chiesa. Così furono radunati i nostri padri e condotti nel vero ovile in adempimento delle profezie fatte anticamente dagli ispirati uomini del Signore, secondo le quali Ehi avrebbe radunato una rimanenza del suo popolo dei quattro canti della terra. Israele, dispersa, viene radunata nell'ovile. Alcuni hanno respinto la testimonianza degli anziani sia per ignoranza che per pregiudizio, senza capire l'importanza del messaggio che veniva comunicato loro. Altri hanno respinto intenzionalmente la verità a causa del male che era in cuor loro e della loro sottomissione all'impietà. In ogni palo di Sion, fra i membri della Chiesa, ci sono rappresentanti di molti popoli. Essi sono venuti perché lo Spirito del Signore è sceso irresistibilmente su di loro e ricevendo lo Spirito del raduno. Essi hanno lasciato ogni cosa per amore del Vangelo, per avere il privilegio di essere annoverati fra i loro compagni di fede e per ottenere una realità con essi, cioè con i santi degli ultimi giorni. Le benedizioni del raduno Israele I nostri antenati erano impegnati in varie imprese nelle loro terre natali, alcune nelle miniere di carbone, altre nell'industria della pesca, altre ancora nelle grandi fabbrie, guadagnando appena di che vivere. Essi udirono il Vangelo, vennero in questo paese, divennero agricoltori e principalmente allevatori di bestiame, oltre naturalmente a dedicarsi alla compravendita di merci. Essi ricevettero addestramento nelle varie professioni, come avvocati, dottori, nelle arti, nelle scienze, il privilegio questo che non avrebbero mai avuto se fossero rimasti nel loro paese d'origine, nelle condizioni che colà prevalevano. E così dal Vangelo essi hanno tratto vantaggi sia materiali che spirituali e morali, e noi tutti sappiamo che siamo in tutto migliori dei uomini che saremmo stati se i nostri padri fossero rimasti nei paesi da cui sono venuti. Oggi la Chiesa annovera moltissime migliaia di persone, ed esse sono nella casa di Israele e principalmente della tribù di Efraim, avendo Efraim ricevuto il diritto di primo genitura in Israele e la missione di mettersi alla testa per svolgere un'opera per i suoi congiunti delle altre tribù nella dispensione della pienezza dei tempi in cui noi viviamo. E così abbiamo veduto l'adempimento della promessa fatta al profeta Joseph Smith, e cioè che attraverso la predicazione del Vangelo molte anime dell'Europa, dell'Asia e delle isole si sarebbero convertite, e noi siamo ora testimoni del raduno dei dispersi di Giuda. Il Signore sta ora aprendo la via per il ritorno di questi proscritti che furono dispersi per la loro disobbedienza e per aver rispinto il figlio di Dio, ed essi sono rimasti dispersi fino al tempo dell'ora d'uno, che è ora. Il raduno avviene perché le chiavi sono state restaurate. Mosè ricevette le chiavi del raduno di Israele sul Sinai, allorché fu chiamato e mandato a guidare il popolo di Israele dall'Egitto e alla terra promessa che il Signore aveva dato al loro padre Abramo. Egli radunò detto popolo, e malgrado non ricevesse il privilegio di non concedergli il possesso di quella terra, deteneva tuttavia le chiavi del raduno. Egli apparve a Pietro, Giacomo e Giovanni sul monte della Traspigazione per concedere loro le stesse chiavi del raduno di Israele al tempo in cui essi vivevano. Egli fu mandato anche dal profeta Joseph Smith e Oliver Cowdery per affidare loro le chiavi del raduno di Israele nella dispensazione della pienezza dei tempi. E in virtù della restaurazione di queste chiavi che voi siete qui stasera, sono certo che le persone che io vedo qui in questo momento sono venute da ogni parte d'Europa, degli Stati Uniti, del Canada e da altri paesi. Cos'è che vi ha portato qui? Il Vangelo di Gesù Cristo è il potere e l'autorità concessi a Mosè per il vostro raduno qui. Oggi gli ebrei si radunano in Palestina in adempimento delle predizioni degli antichi profeti, perché essi si stanno radunando nella loro terra natia a motivo della restaurazione delle chiavi per il raduno di Israele. Gli ebrei sono restituiti alla terra della loro eredità e dovranno avvenire altri raduni, perché noi sappiamo che ci sarà il raduno delle tribù perdute di Israele e tutto questo in virtù della restaurazione delle chiavi del sacerdozio detenute da Mosè. La pienezza dei gentili I tempi dei gentili si stanno avvicinando alla fine. Parlando della disfatta degli ebrei e della distruzione di Gerusalemme, il Signore disse ai Suoi discepoli e cadranno sotto il taglio della spada e saranno menati in cattività fra tutte le genti e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti e vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle e sulla terra angoscia delle nazioni sbigottite dal rimbombo del mare e delle onde I uomini venendo meno per la paurosa aspettazione di quel che sarà per accadere al mondo poiché le potenze dei cieli saranno scrollate Questa scrittura fu citata anche da Moroni quando apparve Joseph Smith nel settembre del 1823 Allora ei disse che detta scrittura si sarebbe adempiuta presto come presto sarebbe avvenuta alla pienezza dei gentili Le parole del nostro Signore sono molto precise ed esplicite circa il tempo della dispersione degli ebrei e i giorni dei gentili In esse si trova la chiave che apre la porta all'adempimento di questa profezia Noi tutti sappiamo che dal tempo della distruzione di Gerusalemme avvenuta nell'anno 70 d.C. fino a quasi alla fine della prima guerra mondiale Gerusalemme fu calpestata da gentili e durante tutto quel tempo gli ebrei erano dispersi e quasi privi di qualsiasi privilegio nella terra santa Il Signore disse che essi sarebbero rimasti dispersi in mezzo alle varie nazioni fino a che non si fossero compiuti i tempi dei gentili e Moroni disse che tali tempi stavano per compiersi Oggi noi viviamo nel periodo di transizione Il giorno dei gentili è venuto e il giorno di Giuda è del rimanente della calpestata Israele e ora prossimo Il segno dell'adempimento di questa profezia è stato dato I primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi Nella dispensazione precedente il Vangelo fu prima predicato agli ebrei e poi dopo che essi lo ebbero respinto fu portato ai gentili Nella dispensazione in cui noi viviamo il Vangelo è stato portato prima di tutto alle nazioni dei gentili e la dispersa Israele oltre che gli ebrei è stata radunata e dopo che il Vangelo sarà stato predicato alle nazioni dei gentili sarà portato agli ebrei così che i primi saranno gli ultimi e gli ultimi i primi come ha promesso il Salvatore Nella sezione 45 di Dottrina Alleanza il Signore richiama la nostra attenzione sul fatto che quando si avrà la pienezza dei gentili una luce si farà strada fra coloro che si troveranno ancora nelle tenebre e questa luce sarà la pienezza del Vangelo Eterno che i gentili respingeranno In quella generazione il tempo dei gentili si compierà Nella sezione 133 di Dottrina Alleanza egli esorta tutte le tribù di Israele a fuggire alle montagne di Efraim per salvarsi e gli ebrei a fuggire a Gerusalemme Dal tempo della distruzione di Gerusalemme ad opera di Tito fino all'anno del 1917 Gerusalemme fu calpestata dai gentili dopo che il generale Allenby alla testa delle forze armate britanniche e conquistò la Palestina Gerusalemme divenne libera dalla tirannia e dall'oppressione dell'impero turco e quando fu fatta la pace la Gran Bretagna inviò una Palestina il Dottor Herbert Samuel un ebreo quale governatore del paese e quella fu la prima volta dopo tutti quegli anni in cui un ebreo governò la Palestina iniziò il ritorno dei ebrei in Palestina sotto la sua guida e con l'approvazione del governo britannico che controlla quella terra ora non più perché la Palestina è indipendente egli sta preparando il ritorno dei dispersi di Giuda nel loro paese dove essi si raduneranno l'indempimento delle predizioni fatte da Isaia e dagli altri profeti e citate da Moroni al profeta Joseph Smith nel quale luogo essi pure avranno il privilegio di udire il Vangelo e di abbracciarlo oggi noi assistiamo a un miracolo che si compie sotto i nostri occhi dopo quella che noi chiamiamo la prima guerra mondiale il premier britannico emonò un proclama agli ebrei in cui dichiarava che essi potevano radunarsi e avere in Palestina una patria o stato ebraico essi cominciarono a radunarsi in gran numero all'inizio di questo secolo le cose in Palestina erano in condizioni deplorevole la gente usava aratri di legno irrigava i campi con le ruote idrauliche i pozzi e i corsi d'acqua erano inquinati e l'acqua veniva trasportata con gli otri come nei tempi antichi le condizioni igieniche e sanitarie erano disastrose il Libano diventerà un frutteto quando ottenne il mandato il governo britannico cambiò questo stato di cose vedete il mandato della Palestina fu dato alla Gran Bretagna sia essa che altre nazioni spesero milioni di sterline per far risorgere quella terra il mar di Galilea è ora un grande serbatoio in cui sono deviate le acque alluvionali dei vari corsi sono stati costruiti canali per l'irrigazione specie sulle sponde destra a sinistra del Giordano questi irrigano qualcosa come 7 milioni di acri di terra che altrimenti non potrebbero essere coltivati lungo detti corsi d'acqua sono state costruite centrali idroelettriche una è situata a circa 12 chilometri a valle di mar di Galilea dove c'è una diga simile a quella di Hoover essa contiene circa 400 milioni di metri cubi d'acqua per scopi di irrigazione ed elettrici attraverso le turbine la maggior parte dell'acqua ritorna al Giordano le centrali elettriche sono sufficienti per un territorio grande quanto lo stato del Vermont la palestina electric corporation fornisce corrente industriale e per l'illuminazione tutta la palestina ad eccezione di Gerusalemme e delle zone circostanti nel 1929 e 30 l'importo della frutta esportata da Gerusalemme cioè arance pomperni limone ammontava a 1 milione 1,5 milioni di dollari nel 1937 era calcolato a 20 milioni durante quello stesso periodo la produzione delle imprese industriali del popolo ebraico salì da 11 milioni a oltre 40 milioni dal 1898 al 1940 70 milioni di dollari furono investiti in palestina attraverso i fondi nazionali queste cifre vanno fino al 1937 da allora c'è stato un grande afflusso di ebrei in palestina e naturalmente tutto ciò che vi ho detto circa il denaro speso e quello che è stato fatto è soltanto una piccola parte di quello che da allora si è conseguito Tel Aviv una città ebraica fondata nel 1910 è oggi più grande di Salt Lake City tutto questo è in adempimento delle profezie Gerusalemme non è più calpestata dai gentili la Gran Bretagna si stancò del mandato e volle esserne esantata il 14 maggio 1948 essa si ritirò e la Repubblica di Israele ebbe origine questo è un avvenimento molto importante che non dobbiamo dimenticare è per noi il segno che i tempi dei gentili si stanno avvicinando alla fine e che il giorno del raduno degli ebrei è della predicazione del Vangelo presso di loro e prossimo ora vi leggerò alcune parole del Salvatore in merito alla dispersione degli ebrei e al loro raduno come riportato nel capitolo 21 di Luca quando vedrete Gerusalemme circondata ad eserciti sappiate allora che la sua desolazione è vicina allora quelli che sono in Giudea fuggano ai monti e quelli che sono nelle città se ne partano e quelli che sono per la campagna non entrino in lei perché quelli sono giorni di vendetta affinché tutte le cose che sono scritte siano tempiute guai alle donne che saranno incinta e da quelle che allatteranno in quei giorni perché vi sarà grandi stretta nel paese ed ira in questo popolo e cadranno sotto il taglio della spada e saranno menati in cattività fra tutte le genti e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti quando il generale romano Tito cinse da sedio a Gerusalemme improvvisamente per qualche causa sconosciuta ritirò le sue truppe questo fu per i membri della chiesa il segnale di fuggire ed essi ne approfittarono Tito ritornò a Cinzia di Nuol da sedio alla città fu allora che avvennero le cose spaventose di cui parla Mosè nel capitolo 28 di Deuteronomio Oggi gli ebrei costruiscono città su aree desolate essi hanno il loro governo la loro bandiera e fanno le loro leggi vorrei che vi procuraste una copia dell'opera intitolata voice of warning dell'anziano parla di B. Pratt scritta nel 1837 e gli ci parla di tutte queste cose di come esse si sarebbero adempiute ora più di cento anni dopo vediamo gli ebrei che ritornano in patria noi vediamo instaurato il loro governo e così le basi per il ritorno di Israele sono gettate e tuttavia le cieche guide dei ciechi non lo vedono non lo vediamo